Ma partecipare al Design Film Festival è una maniera così ulteriore di divulgare un messaggio poetico forse, è un momento di confronto anche con altre realtà, per questo è molto interessante, una maniera anche di approfondire ed esplorare altri campi in cui introdurre la decorazione. C'è una cosa che ho visto poco fa ed era questo video di questo regista giapponese bravissimo, bellissimo, tecnicamente ineccepibile, ma che mi comunicava una fortissima angoscia. Grazie.